Buongiorno a tutti, buongiorno agli studenti delle scuole superiori che ci stanno seguendo in classe, ai loro prof e anche agli amici che ci stanno seguendo su YouTube. Questa è la seconda conferenza che dedichiamo al tema dell'Islam nell'ambito di quel progetto che si chiama Le Valigie di Eva che è dedicato alle donne immigrate nel nostro territorio. Il tema è quello delle donne nell'Islam, è un tema molto dibattuto e qualche volta è in primo piano nella comunicazione, negli organi di stampa, nei media, qualche volta scende giù, però rimane sempre un tema di fondo molto interessante, molto discusso e che anche ha dato origine ancora oggi a molte polemiche, a volte più che a discussioni. Era importante quindi parlarne, parlarne per saperne di più, per riconoscere meglio e anche per sapere anche come ci si può rapportare in un mondo compreso quello nostro, compreso quello del nostro territorio del portugarese, ma in tutta Italia, dove abbiamo ormai donne e uomini di diverse fedi, di diverse religioni e con le quali dobbiamo imparare a convivere. Allora, per affrontare questo argomento, questa seconda conferenza, la prima l'abbiamo svuota con il dottor Moulay Zidane Amrani, che riguardava i rapporti tra le famiglie islamiche e la scuola italiana, che vi invito a seguire, ad ascoltare, sempre sul nostro canale YouTube Noi Migranti Associazione. In questa occasione invece abbiamo la dottoressa Sumaya Abdelkader. Voi credo che avete potuto leggere un po' la sua presentazione, io torno su di lei per pochi minuti. Buongiorno Sumaya, intanto eccola qui che è apparsa nel nostro schermo. Buongiorno, buongiorno Roberto, buongiorno a tutte e tutti. Sumaya ha una lunga storia di impegno sociale e culturale, è stata e ancora oggi opera all'interno dell'amministrazione della città di Milano, che è una delle principali città italiane, una città multietnica, una città dove ci sono molti problemi ma anche molte opportunità. È laureata in più materie e ha anche scritto un paio di libri, uno è questo, quello che abbiamo in testa e l'altro è porto il velo ad oro i Queen. Quindi vedete che già siamo un po' dentro sul tema che andiamo ad affrontare oggi. E che altro aggiungere? Sì, abbiamo un'altra donna, si chiama Vitalia Zipka, vorrei che, eccola qui, buongiorno Vitalia. Buongiorno a tutti. Buongiorno, Vitalia è di origine ucraina, da molti anni qui da noi, in Italia a Portuguaro e sarà lei a porre le domande a colloquiare con Sumaya, mentre io vi lascio e ci rivediamo alla fine della conferenza, cioè tra circa un'oretta. Buon lavoro a voi due. Eccoci qua. Buongiorno a tutti di nuovo. Dunque, le domande che poniamo alla dottoressa Sumaya Abdelkader ci sono arrivate dalle classi seconda A del liceo scientifico, 25 aprile, e dalle classi quinti del corso sociosanitario dell'ISIS Luzzatto. Abbiamo riorganizzato un po' queste domande su alcuni temi centrali, scusate, così da usare meglio l'ora che abbiamo a disposizione per le risposte. Quindi andiamo subito al dunque. La prima domanda è fondamentale e richiede una risposta approfondita. Nel Corano, chi è la donna? Credo però sia opportuno che prima di entrare appunto nel merito della risposta, la dottoressa Abdelkader ci spieghi che cosa è il Corano. Tanto grazie. Buongiorno a Vitalia. Grazie ancora agli amici di Portogruaro per avermi invitato anche in questa occasione a parlare. Per me è sempre un'occasione importante riuscire a confrontarmi o comunque dare il mio contributo per parlare di un tema molto sensibile e che ha bisogno di approfondimento, perché molto spesso è trattato con superficialità, leggerezza e anche strumentalizzato purtroppo. Il tema della donna musulmana dell'Islam è un tema caldo sempre, ormai da decenni. È spesso trattato nel modo non adatto, per cui siamo qua. Cerchiamo di ricostruire un po' il profilo di questa figura femminile che poi si traduce in tante figure femminili, in tante donne, in tante personalità, tutte diverse tra loro che contribuiscono a una diversità, una ricchezza molto importante. Allora, innanzitutto diciamo due paroline sul Corano, che è il testo fondamentale, base dei musulmani e i musulmani guardano il Corano come guida, come riferimento. Il Corano è stato rivelato, rivelato nel senso che è stato trasmesso attraverso l'Arcangelo Gabriele al profeta Muhammad, Muhammad che voi spesso conoscete come Maometto, ma io chiamerò Muhammad perché il suo nome è corretto, proprio nel mese di Ramadan. E noi in questi giorni stiamo vivendo il mese di Ramadan. Siamo già arrivati al ventesimo giorno, mancano dieci giorni circa. E proprio in questi giorni si dice che sia stato rivelato il Corano. Il Corano non è un libro che è stato calato dal cielo così, in un blocco unico, ma sono dei versetti che sono stati rivelati al profeta man mano durante la sua vita e quasi sempre contestuali al tempo che viveva. Cioè molto spesso erano versetti che andavano a toccare una situazione che succedeva in quei tempi. Quindi è molto importante quando si legge il Corano è conoscere cosa succedeva, la storia di quei tempi, perché molto spesso ci sono dei riferimenti che se non si conoscono non si comprendono il senso e il significato di quei versetti. Il Corano è un testo molto plurale. È un testo plurale perché è un testo spirituale, è un testo di legge, è un testo di racconti e narrazioni. Ci sono molti racconti e narrazioni di tutti i profeti, i principali, che voi conoscete probabilmente perché sono gli stessi profeti della tradizione cristiana ed ebraica. Da Adamo fino a Mosè, Noè, Abramo e lo stesso Gesù è raccontato in maniera molto importante nel Corano. Gesù per noi è un profeta, un profeta come gli altri, ha valore quindi di essere umano, non ha valenza divina e questa è la grande differenza tra noi cristiani. E poi c'è la figura di Maria, che è importantissima nel Corano, Maria madre di Gesù, a cui è dedicato un intero capitolo e si racconta proprio la sua vita. Quindi vedete che il Corano è un quasi, io lo chiamo il sussidiario dei musulmani perché tratta tantissimi argomenti in modo molto diverso. Tra questi ci sono anche le regole, i precetti, i cosiddetti precetti, in cui si dice digiunate, pregate, fate l'elemosina e così via. Quindi questo testo è un testo che va capito, compreso, letto e a volte anche interpretato perché non sempre è chiaro. Non sempre è chiaro. Ci sono versetti che sono anche allegorici, non sono comprensibili, ci sono delle metafore, ci sono dei versetti che sono delle metafore che vanno comprese anche conoscendo bene tutta quella che è la tradizione islamica e conoscendo bene il contesto in cui era vissuto il profeta Muhammad. Quindi non è una cosa immediata e semplice. I musulmani lo leggono, ma tanti musulmani non lo capiscono. C'è grande analfabetismo religioso anche tra i musulmani. Tra l'altro il Corano è scritto in arabo e non tutti i musulmani sono arabi. La maggior parte dei musulmani non sono arabi perché l'islam si è diffuso nel mondo e ha quindi attraversato popoli differenti tra di loro, con lingue differenti tra di loro e quindi non tutti hanno accesso alla comprensione diretta del Corano. Ci sono le traduzioni, ma spesso le traduzioni non sono perfette e le traduzioni interpretano spesso. Quindi troverete in un paese che una frase gli danno un significato e in un paese un altro significato. Anche in Italia, in Italia il Corano è tradotto in varie versioni, ci sono versioni con traduzioni di parole, anche sfumature diverse tra di loro. E questo ci permette già di capire come l'approccio al Corano è diverso, può essere diverso e quindi può essere interpretato in modo diverso e quindi può essere praticato in modo diverso. E qui nasce tutta la nostra storia sul perché la condizione femminile nel tempo ha avuto strade e forme molto differenti tra di loro e adesso ne parliamo. Allora, nel Corano non c'è un manuale di regole su quale sia il ruolo della donna e come debba essere il ruolo della donna o dell'uomo. C'è sicuramente una serie di inviti, richiami, indicazioni agli uomini e alle donne a come essere persone di fede, persone che devono interpretare la propria vita alla luce di un percorso spirituale in ardorazione a Dio. È un libro fortemente spirituale da questo punto di vista. Infatti noi scandiamo le nostre vite, le nostre giornate, non solo immersi nella dimensione terrena e materiale, quindi andando a lavoro, andando a fare shopping, andando a fare la baldoria e così via, ma anche in una dimensione spirituale. Si prega cinque volte al giorno, si medita, si fanno le invocazioni serali, ci sono le abluzioni prima delle preghiere e come in questo periodo che stiamo vivendo si digiuna durante il mese di Ramadan e così via. Quindi diciamo che il Corano parla in misura minore, ma non meno importante, invece del rapporto uomo-donna e del rapporto tra uomo-donna e della società, dei loro doveri, dei diritti e al senso della creazione. Un uomo e una donna sono chiamati dal primo giorno della creazione a una responsabilità e all'obbedienza di Dio. Infatti un versetto del Corano spiega perché sono stati creati uomo-donna, quindi gli esseri umani, sono stati creati per adorarlo. Punto. E già dal primo giorno Dio li mette già alla prova, attraverso la famosa storia dell'albero. Nel Corano non c'è specificato che albero sia, la leggenda dell'albero di mele in realtà non è proprio così, era un albero generico a cui Dio ha detto a quelli che qui si chiamano Adamo ed Eva di non avvicinarsi e loro disobbedirono, tentati dal diavolo disobbedirono e si avvicinarono e mangiarono dal frutto di questo albero. Però furono entrambi responsabili di questa disobbedienza ed entrambi pagarono per aver disobbedito Dio, quindi dall'Eden furono cacciati e furono portati a vivere sulla scuola che noi conosciamo come terra. Quindi in egual misura hanno iniziato il loro percorso di vita, con lo stesso errore ma con la stessa anche promessa di cambiare, di migliorare, di essere perdonate a Dio perché alla fine Dio li perdona. Questo fatto di piena uguaglianza di fronte a Dio tra uomo e donna nel Corano è molto diffuso, è un continuo richiamo a uomini e donne di fare o non fare qualcosa, ma entrambi vengono richiamati. Per esempio vi cito un versetto in cui dice in verità i musulmani e le musulmane, i credenti e le credenti, i devoti e le devote, i leali e le leali, perseveranti e perseveranti e così via, è molto lungo, c'è un elenco lungo di caratteristiche di uomini e donne, sono coloro, i migliori di loro sono coloro che sono più timorati di Dio e timorati di Dio significa che sono coloro che obbediscono di più a Dio, che sono più devoti a Dio. Quindi la grande differenza tra uomo e donna sta in questo, nella devozione, nel chi è più devoto a Dio. E uomini e donne sono chiamati a collaborare tra di loro, pari allo stesso modo, anche qui il Corano lo dice, i credenti e le credenti sono alleati gli uni agli altri, ordinano le buone consuetudine e proibiscono ciò che è riprovevole, eseguono l'orazione e pagano la decima e obbediscono a Dio, in ugual misura. E gli uomini come le donne partecipano alla vita sociale, economica, politica, amministrative, anche qui citato e sottolineato nel Corano, e dove Dio a un certo punto richiama il profeta, gli dice, oh profeta, quando vengono date le credenti, le credenti, a stringere un patto, fallo, stringi un patto con loro. Questo era riferito, e qui bisogna conoscere il contesto, era riferito a un momento storico in cui i musulmani erano perseguitati, si dovevano mettere insieme per difendersi, scappare, tutelarsi, eccetera, e quindi avevano le loro strategie politiche, economiche, eccetera, eccetera, e uomini e donne partecipavano in ugual misura anche a questo livello. Ed ognuno, uomo e donna, è personalmente e individualmente responsabile delle proprie azioni. E anche qui il Corano ce lo ricorda e dice, chi farà un male subirà una sanzione corrispondente, mentre chi fa il bene, essendo credente, maschio o femmina che sia, sarà fra coloro che entreranno in giardino. Ovviamente quando si dice sanzione si riferisce a una sanzione corribbina, che nella sua infinita misericordia può essere applicata o meno, non è una sanzione umana che qualcuno deve fare contro qualcuno. E poi nel Corano uomo e donna hanno origini dalla stessa identica entità. Questa entità, chiamiamola così in italiano, in arabo si chiama nafs, nafs che è un po' vicino a, se volete, spirito, anima, scusate, anima, diciamo che vuol dire più o meno anima. Quindi un'anima originaria Dio ha creato e da questa anima ha differenziato l'uomo e la donna. E lo stesso Corano dice, oh gente, temete il vostro Signore che vi creò da un'unica nafs, quindi da un'unica anima. Dicevo prima, lo risottolineo, l'unica differenza davanti a Dio tra uomo e donna sta nella takua. Takua significa appunto timore e devozione a Dio. E questo ribadito anche nel Corano in cui Dio dice, oh umani, cioè donne e uomini, vi abbiamo creato da un'unica coppia di uomo e donna. Quando Dio parla di se stesso al plurale, vi abbiamo creato, è un plurale maestatis, come quando in italiano abbiamo molto rispetto per qualcuno e gli diamo del voi. E Dio parla di se al plurale come enfatizzazione della sua essenza. Qui dice, oh umani, vi abbiamo creato da un'unica coppia di uomo e donna. Abbiamo fatto di voi popoli e tribù e nazioni in modo che possiate conoscervi l'un l'altro. Il più grande fra voi, agli occhi di Dio, è colui, ecco lei, che è più giusto e che ha più tappo, ha più timore, più devozione verso Dio. Questo versetto tra l'altro è estremamente interessante e importante perché qui emergono cose molto importanti. Qui Dio non parla ai musulmani, qui parla agli esseri umani o umani, avete sentito all'inizio ho citato gli umani. Quindi qui Dio non fa la classifica tra i musulmani e non musulmani. Tra tutti voi, il migliore di voi è chi si comporta meglio, è chi più diciamo persona più giusta e ed equa. E poi c'è l'invito agli uomini, gli esseri umani di conoscersi tra di loro. Ed è sancita la diversità come volontà divina. Quando dice abbiamo fatto di voi tribù e nazioni affinché vi conoscesse tra di voi, è anche traccia il destino degli esseri umani. Essere diversi, conoscersi, quindi dialogare e fare a gara in qualche modo ad essere i migliori di fronte a Dio. Quindi rispettare le regole, tutte le regole che poi sono le regole di uno stato normale, non uccidere, non rubare, eccetera, eccetera. Questo è importantissimo, un passaggio molto importante. Certamente la rivelazione sia del Corano che l'insegnamento del profeta Muhammad hanno avuto un impatto importante sulla vita delle donne. Perché noi la chiamiamo l'era pre-islamica, quindi quando l'islam non c'era ancora, la condizione delle donne era una condizione estremamente disomogenea. Anche per certi versi c'era un'estrema libertà per alcune cose e per altre c'era un'estrema violenza contro le donne, sminuivano le donne e così via. Pensate che se nasceva una figlia femmina veniva ritenuta una disgrazia e addirittura si seppellivano le bambine, vive, perché veniva ritenuta appunto una disgrazia. In questo il Corano fu molto chiaro e molto duro, tant'è che un versetto del Corano proibisce di seppellire le bambine, di reputarle una disgrazia e di uccidere chiunque sia innocente e sancisce il principio che una bambina femmina vale come un bambino maschio e che non è nessuna disgrazia e anzi è una benedizione a cui provvederà Dio. E questo è fortissimo, è molto importante, se pensate per la mentalità che c'era al tempo fu rivoluzionario, fu rivoluzionario, come furono rivoluzionarie delle pratiche nuove che introdusse l'Islam. Infatti io dico sempre che per quanto riguarda le donne l'Islam fu rivoluzionario a quel tempo, 1400 anni fa, stiamo parlando di 1400 anni fa, visualizzate come era l'Europa per esempio di 1400 anni fa e la condizione delle donne. L'Islam con sé porta il diritto al divorzio, voluto dall'uomo o voluto dalla donna. Pensate qua quando è arrivato il diritto al divorzio, negli anni 80, ma 80 del secolo scorso, cioè di 30 anni fa, 40 anni fa appena. Introdusse il diritto all'eredità delle donne, introdusse la libertà di disporre di sé e del proprio corpo, delle proprie vite, perché prima dell'Islam le donne vedove per esempio rientravano nell'eredità della famiglia, cioè diventavano, potevano essere possedute da qualche uomo della famiglia e addirittura sposate da un fratello del marito, piuttosto che un cugino e così via. Entravano a far parte del bottino dell'eredità. Questo fu vietatissimo, fu data alla donna il diritto di essere autonoma e indipendente, scegliere per sé la sua vita ed avere la sua fetta di eredità e di tutelarla, questa fetta di eredità. Si vietò ogni forma di violenza verso le donne e le donne acquisirono un valore grande di protagoniste. Protagoniste nella vita quotidiana, lo dicevamo prima, nella vita politica, economica, amministrativa e così via. E anche sul piano religioso furono importanti, perché grazie alle donne furono fatti delle correzioni, chiamiamole così, rispetto all'insegnamento anche religioso, perché c'erano i uomini che tendevano un po' a trascinare le cose verso i loro interessi, diciamo così, che tentavano di interpretare sotto insomma il cappello maschilista patriarcale e invece le donne riportavano le questioni sul tema dei diritti. Vi faccio degli esempi. Per esempio, un giorno c'era la tradizione a quei tempi che i padri scegliessero lo sposo delle figlie. A qualsiasi età, a qualsiasi motivo, un po' le vendevano in qualche modo, perché si prendevano i soldi i genitori. Allora, un giorno una donna si andò a lamentare dal profeta e gli disse, oh profeta, qui c'è ancora sta tradizione. Mio padre mi sta obbligando a sposare mio cugino. Allora il profeta gli chiese, tu non lo vuoi questo uomo? Se tu non vuoi questo uomo, scusate, se tu non vuoi questo uomo, questo matrimonio non può essere valido. Cioè, lo annullo all'istante. E allora lei disse, guarda profeta, ti dico la verità, a me questo uomo piace e io lo voglio, ma volevo che tu dicessi questa frase perché fosse di insegnamento a tutte le donne che non hanno il coraggio di dire, a me questo uomo non piace. E allora il profeta diede ragione a questa donna e sancì la regola che una donna per sposarsi deve essere consensiente, deve poter scegliere lei, deve poter decidere lei. E si sancì che la dote che l'uomo dona alla donna va alla donna e non va alla famiglia della donna. Tant'è che ci fu un momento in cui uno dei compagni del profeta, cioè uno di quelli che lo seguiva, era suo braccio destro, insomma, cercò di cambiare un po' questa regola della dote perché vedeva che le donne chiedevano un po' troppo, secondo lui, chiedevano delle doti importanti. E allora lui disse, qua queste donne chiedono un po' troppo di dote, allora io decido che ci deve essere una soglia massima e i soldi e le dote non vadano più alle donne ma alla Cassa dello Stato. Quindi è una cosa ingiusta perché cambiava le regole. Lì il profeta a quei tempi non c'era più, però si alzò una donna, era un venerdì ed era il giorno in cui questo compagno del profeta stava facendo il sermone del venerdì. Quindi durante il mezzo al sermone si alzò una donna e disse, tu stai sbagliando, stai contravenendo una regola che Dio e il suo profeta hanno riconosciuto a noi donne. Non puoi farlo. E allora lui ritrattò la sua decisione e disse, dato che era quel periodo la guida dei musulmani, ritrattò e disse questa donna ha ragione, non posso cambiare una regola a Dio, diciamo così. per farla in soldone. Quindi una donna anche lì fissò e sancì un diritto che gli era stato riconosciuto e non permise a questo uomo di cambiare le regole. Prima vi ho citato un versetto molto lungo, vi ricordate che era tutto al maschile, declinato tutto al maschile e al femminile, quello in cui si dice a uomini vi abbiamo, no scusate, lo recupero perché non me lo ricordo ancora. Ah eccolo, in verità i musulmani e le musulmani, credenti e le credenti, i devoti e le devote e così via, tutto al maschile e il femminile. Perché? C'è un motivo. Perché un giorno una donna andò a lamentarsi del profeta e gli disse, senti profeta ma qua a sto Corano ci arriva tutto al maschile, cioè tutto rivolto al maschile, ma noi donne non siamo comprese in questo Corano. E allora il profeta guardò un po' perplesso perché nella lingua araba come in italiano al plurale si usa il maschile, come l'italiano. Anche l'arabo al plurale si usa il maschile, quindi se c'è un gruppo misto dove ci sono maschi e femmine si usa il maschile. Il profeta fu perplesso quasi a volerle dire, a giustificarsi dicendo la lingua araba è così, ma gli fu in quel momento rivelato questo versetto in cui Dio sancì che il Corano è rivolto alle uomini e donne e quindi fu declinato da quel momento al maschile e al femminile. E questa è una, se ci pensate, è una vittoria incredibile, fortissima delle donne. Queste e tante altre, in cui fissavano i loro diritti e sancìvano insomma delle regole che le tutelassero e le valorizzassero proprio come donne. C'è Aisha, Aisha, in italiano Aisha, che era moglie del profeta, era una donna di estrema intelligenza con una memoria, si racconta, si narra che aveva una memoria straordinaria, era diventata l'erede spirituale del profeta, cioè insegnava la comunità islamica del tempo, l'islam, e cosa faceva? Era una giurisperita, quindi interpretava anche il Corano e i detti del profeta e correggeva i musulmani del tempo in tutto quello che sbagliavano magari avendo capito male o trasmesso male l'insegnamento del profeta. In questo senso succedeva spesso che certi compagni del profeta che erano un po' così maschilisti cercavano di riformulare dei detti del profeta a vantaggio degli uomini. Lei su questo fu sempre estremamente rigida e li riprendeva, li sgridava diremmo un po' così semplicemente, e gli diceva no no, qua non la raccontate giusta, non è così in nessun modo, non è così, proprio col ditino, me la immagino così. Il profeta disse questo, questo e questo. Addirittura alcuni narravano di aver sentito il profeta aver detto determinate cose contro le donne e lei diceva è impossibile perché in quest'altra situazione il profeta ha detto l'esatto contrario, quindi non ce l'ha raccontare sbagliata. Infatti Aisha qualcuno la chiama la prima femminista dell'era dei musulmani perché su questo era era molto forte, molto molto rivoluzionaria per il tempo. Addirittura il profeta in punto di morte, cioè mentre diceva le sue ultime parole, tra le sue tre ultime parole ci fu la raccomandazione di trattare bene le donne, di garantire i loro diritti, cioè tutto quello che lui aveva insegnato nei loro confronti e di non, diciamo, non essere ingiusti nei loro confronti. Questo perché era fortemente consapevole che c'era questa forte tendenza invece ad avere un approccio maschilista, patriarcale, misogino verso le donne. Oggi però guardiamo al mondo musulmano e diciamo, beh, insomma, queste cose che ci stai raccontando non è che sono proprio così. È vero, non è proprio così. Ci sono molti paesi a maggioranza musulmana dove praticamente vediamo l'opposto, l'esatto opposto di quello che vi ho raccontato finora e di quello che il Corano stesso racconta. Questo perché i problemi che oggi, ma ormai da secoli nel tempo, abbiamo visto società più evolute, società più involute. Oggi vediamo molte società musulmane involute che hanno tradito fondamentalmente il messaggio dell'Islam. Cosa hanno fatto? Praticamente diciamo che si può riassumere questa deviazione dal messaggio originale principalmente per alcuni motivi. Intanto l'Islam quando si è, allora l'Islam nasce nella penisola arabica, se avete presente dov'è, e poi si diffonde. Si diffonde un po' dappertutto e diffondendosi un po' dappertutto incontra molte tradizioni differenti tra di loro, con abitudini differenti, con modalità differenti, con anche situazioni, condizioni delle donne molto differenti, da quelle più matriarcali a quelle più patriarcali. Quindi diffondendosi il vivere l'Islam ingloba quelle che sono tradizioni e culture locali, nel bene e nel male. E nel male ci sono tante cose. Nel male purtroppo vengono acquisite e addirittura elevate a volte a valore religioso delle tradizioni che non c'entrano niente con l'Islam. Per esempio l'infibulazione, non so se sapete cos'è, l'infibulazione è quella forma di mutilazione dei genitali femminili, che è praticata in alcuni paesi, per esempio del corno d'Africa, ma è praticata trasversalmente da tante religioni. Però alcuni lì dicono questo l'ha detto il profeta. Non è vero. Non esiste questa cosa. Se la sono inventata di sana pianta. E la elevano come regola religiosa, ma non c'entra niente con la religione. E questo avviene spesso perché c'è un analfabetismo religioso molto forte. Vi dicevo prima, non tutti i musulmani parlano arabo, quindi non tutti accedono alla lettura del Corano, non tutti possono capirlo anche se sanno l'arabo. Quindi capite che è facile raccontarla sbagliata a chi non sa le cose come funzionano. E poi ci sono le questioni di strumentalizzazione e sfruttamento politico di alcuni paesi e tribù che hanno adottato alcune interpretazioni restrittive nei confronti delle donne, elevandole a valore religioso, facendole diventare addirittura regole dello Stato contro le donne. Ma anche qui, tradimento del messaggio islamico. Per esempio, alcuni conoscete l'Afghanistan, l'Arabia Saudita, qualche altro paese dove il velo è imposto. Imposto, poi ne parleremo. Quindi capite che è molto complessa la situazione, è ricca, articolata, non si può ridurre, banalizzare, ed è importante approfondire e conoscere. Grazie mille, grazie. Volevo ricollegarmi un attimo al discorso del rapporto tra l'uomo e donna, appunto, e capire un attimo che cosa dice il Corano sul matrimonio, no? Quindi c'è la coerenza tra la legislazione sul matrimonio dei paesi musulmani e quanto prevede, appunto, la fede islamica, oppure no? Questa è la domanda. Allora, sul matrimonio il Corano in sé non dice grandi cose. Sicuramente parla dell'importanza dell'unione tra uomo e donna, rispettando certe condizioni, che l'uomo e la donna sono vesti l'uno per l'altro. Vesti l'uno per l'altro significa protezione l'uno per l'altro, rifugio, segreto, eccetera, eccetera. Ma non specifica tantissimo. Più che altro lo troviamo nella tradizione profetica, cioè il profeta ha insegnato di più, ha detto qualcosa di più, ha specificato di più rispetto alla questione del matrimonio. Sì, si parla della dote, ma adesso vi spiegherò. La tradizione islamica vede il matrimonio in modo molto semplice, come anche il divorzio in realtà. Il matrimonio ha delle condizioni necessarie, che sono la formulazione di accettazione da parte della donna, in particolar modo dell'uomo, cioè devono dire sì, lo voglio, un po' come si fa qua. E il fatto che l'uomo dia alla donna una dote, una dote che può essere soldi oppure qualsiasi altra cosa, quello che chiede la donna. E poi c'è la possibilità per la donna di porre delle condizioni all'uomo. Qualsiasi condizione ritiene utile per garantire e tutelare la propria vita. Queste sono le condizioni fondamentali. Dopodiché, come avviene questo matrimonio? Non ci sono regole precise. C'è la festa, non c'è la festa. Ogni paese, ogni tradizione la sviluppa in un modo molto diverso. Il matrimonio va registrato in un contratto scritto perché il matrimonio islamico in realtà è più laico che religioso. Non è un sacramento, quindi non è un vincolo di vita assoluto. Si può sciogliere. Basta, diventa un atto civile. Infatti, per celebrare il matrimonio non serve per forza l'imam. A parte che l'imam non è paragonabile al prete. Non c'è la stessa corrispondenza tra clero, per esempio cristiano, cattolico o un corrispettivo islamico. Perché non c'è la cosiddetta chiesa, non c'è una gerarchia, non c'è il clero nell'islam. È molto più orizzontale come religione. Quindi il matrimonio lo può celebrare chiunque, uomo o donna. Lo può fare un funzionario del comune, piuttosto che un imam delegato a farlo. Io celebro matrimoni religiosi, celebro anche matrimoni laici in comune. È un po' così. Ci sono differenze culturali su come viene eseguito questo matrimonio. C'è chi ha il matrimonio che dura cinque giorni, chi ce l'ha due giorni, chi insomma si veste in un modo, chi in un altro. Questo è libero ed è ricchissimo tra paese a paese. Nello stesso paese anche ci sono modalità molto differenti. E prima del matrimonio qualcuno fa anche un fidanzamento, un fidanzamento che è una promessa di matrimonio fondamentalmente. In generale la regola base è che prima del matrimonio non ci sono rapporti sessuali. Questa è un po' la regola più rigida e difficile che c'è nella relazione tra uomo e donna nell'islam. Per questo i musulmani tendono a sposarsi molto giovani, per far prima. Per questo trovate le coppie giovanissime, già a vent'anni, che si sposano e costruiscono la loro vita. Ecco, purtroppo anche qui vediamo che in alcuni paesi il matrimonio viene imposto o organizzato dalle famiglie, ma anche per i maschi e non solo per le donne. viene imposto anche agli uomini, si combinano il matrimonio, le famiglie, spesso per questioni economiche, perché qualcuno ne trae vantaggio, o perché ci si aggrega una tribù più grande o una famiglia di nome più grande e importante e così via. Però questo è vietatissimo nell'islam, perché come vi ho detto prima, una delle condizioni fondamentali perché il matrimonio sia valido è che sposo e sposa siano consensienti. Purtroppo però in alcuni paesi ha prevalso la tradizione culturale e locale e succedono anche i matrimoni precoci. L'islam è vietatissimo il matrimonio precoce. La precocità da cosa è definita? È definita dalla coscienza e consapevolezza della persona quando è matura. Spesso si dice che Aisha era la sposa bambina del profeta. Si dice che l'abbia sposata sei anni, otto anni, nove anni. Questo è assolutamente falso. Non c'è nessun riscontro storico su questo. Anzi, le ricostruzioni degli storici musulmani definiscono, indicano che Aisha si sia sposata tra i 16 e i 18 anni. I 16 e i 18 anni per quei tempi era un'età assolutamente normale, all'età media in cui si sposavano le nostre nonne, ma anche in Italia, fino a 50 anni fa. Quindi è una questione molto legata alla tradizione e cultura del tempo. Però assolutamente è vietatissimo il matrimonio precoce. Va anzi contrastato e combattuto. Infatti si cerca di contrastarlo e combatterlo in molti paesi. Finito. Finito. Sì, ho sintetizzato al massimo. In realtà è lunghissimo, è un discorso lunghissimo, però ho cercato di sottolineare. Capisco, non è facile, anche perché ci sono tante cose da dire, complesse. Invece volevo fare un'altra domanda. Lei porta il velo, adesso, anche in questo momento, e sul velo ci sono molte domande. Come ad esempio, è un obbligo religioso, una tradizione, oppure magari una specie di costrizione, di legge, no? Se può dirci qualcosina per quanto riguarda il burqa. Ok, allora intanto facciamo chiarezza. Il velo che indossano le donne non è un'invenzione dell'Islam. Il velo esiste da sempre, in tantissime tradizioni, ovunque, a qualsiasi latitudine e longitudine del mondo. Se pensate a Maria, madre di Gesù, che è praticamente ovunque, rappresentata ovunque in Italia, la vedrete sempre col velo, mai senza velo. Perché era la tradizione del tempo. L'Islam cosa fa? Recepisce la tradizione del tempo, in realtà, non la respinge, non la contrasta, e anzi la rende, la valorizza, dicendo alle musulmane, vestitevi per farvi distinguere dalle donne che, invece, non sono donne di fede e devote. Quindi richiama il velo come elemento, come abbigliamento di devozione e di fede. Addirittura per distinguersi dalle prostitute, perché le prostitute del tempo andavano vestite un po' più scollate e così via, quindi l'Islam dice, per differenziare le donne da un livello sociale, da una condizione sociale, eccetera, richiama ad indossare il velo. Ora, i sapienti musulmani sull'obbligatorietà di indossare il velo si sono divisi. C'è chi dice, è un precetto e va indossato, c'è chi dice, no, non è obbligatorio, ogni donna può scegliere se indossarlo o meno. Quando ci sono le divergenze, significa che un po', ognuno può fare la scelta che preferisce. Quando dico obbligo di indossare il velo è un obbligo verso Dio, non verso le persone. Cioè, io mi sento in obbligo di indossare il velo verso Dio. Non mi può obbligare mio marito, mio padre, mio fratello a indossare il velo. Questo no, non esiste. Ma per nessun'altra questione, né per la preghiera, né per il digiuno, nessuno può obbligare un musulmano a digiunare, pregare, a indossare il velo o meno, eccetera, eccetera. Tant'è che un versetto del Corano dice chiaro, non c'è costrizione nella religione. Non si può costringere nessuno, musulmano, non a praticare qualsiasi estazione di religione, eccetera. Quindi cosa diventa per tante donne musulmane che sono libere di scegliere, di indossare o meno il velo? Se scelgono di indossare il velo diventa un percorso di fede, diventa un esercizio spirituale che è quello, per esempio, è per me. Per me indossare il velo significa dimostrare a Dio la mia devozione ed è un percorso spirituale perché mi privo di esibire i miei capelli, che sono anche motivo un po' di vanità delle donne, per dedicarmi a Dio, per essere più devota a Dio. Questo non significa che una donna musulmana che sceglie di non indossare il velo sia meno devota o meno dedita a Dio, assolutamente no. Anzi, infatti io sostengo la via della libera scelta e della parità nella scelta di indossarlo o non indossarlo. Quello che fa la differenza lo dicevamo prima, a chi si comporta meglio, a chi è più devoto a Dio, eccetera, eccetera. Si può essere devoto a Dio in tantissimi modi differenti. Quindi laddove voi vedete costrizione nell'indossare il velo è assolutamente sbagliato. Quei paesi che costringono le donne ad indossare il velo fanno un errore gravissimo. Le dono la libertà che era sancita fin dall'inizio nell'islam. Quindi vedrete vari modi di indossare il velo, per esempio. Vedrete, adesso va molto di moda per esempio il turbante, lo portano più le ragazze giovani di oggi che hanno creato anche una moda, un filone di moda su come ci si veste in modo islamico. oppure vedrete in Africa è più diffuso vedere donne che indossano i turbanti col petto scoperto perché lì lo interpretano così. Oppure vedrete paesi che esplodono i colori, l'abbigliamento islamico femminile non è solo il velo ma è tutto il modo di vestirsi. Paesi in cui i colori prevalgono, altri paesi dove il colore sparisce e addirittura il velo va a coprire tutto il corpo. In Arabia Saudita c'è il niqab che è quello tutto nero a volte scopre un po' gli occhi altre volte li copre quello è il niqab che non è assolutamente non fa parte della tradizione originale islamica oppure in Afghanistan vedrete il burka i burka sono più colorati cioè azzurro, rosa eccetera ma coprono tutta la donna lo stesso e lasciano sul viso solo una retina perché possano vedere. anche questo questo fa parte di un processo voluto dai talebani di negare alle donne spazio e libertà per tutte delle loro costruzioni fantasiose e mentali in cui hanno stabilito un regime fanatico un regime estremista che ha svantaggiato principalmente le donne anche gli uomini ma principalmente le donne pensate che il burka quello che vedete in Afghanistan aveva origini tutt'altro diverse era se l'era inventato un sultano che voleva che le proprie donne fossero distinte dalle donne del popolo quindi vestiva le proprie donne in questo modo qua per distinguerle per proteggerle eccetera eccetera e divenne una moda a un certo punto anche le donne non nobili volevano vestirsi così per somigliare più per fare un po' più alzare il loro status simboli tant'è che a un certo punto erano loro che sceglievano di indossarlo perché andava di moda perché finché poi a un certo punto lo stato afghanista ha cominciato invece a contrastarlo specialmente a chi lavorava in spazi pubblici a vietarlo e così via finché non è arrivato il regime talebano che lo ha ripreso gli ha dato un significato nuovo e lo ha imposto capite come si è ribaltato il percorso di questo di questo indumento e poi vabbè lo vedete da paese a paese cambia ma cambia banalmente per questioni estetiche ci sono quelle le turche lo portano super colorato legato dietro al collo piuttosto che in Marocco lo vestono ancora in un modo diverso in Egitto ancora in un modo diverso ma è più una questione di moda diciamo così ogni tott'anni esce un velo nuovo e cambia la moda però diciamo che alla fine dovrebbe restare dovrebbe essere una libera scelta della donna nel suo percorso di fede spirituale che non deve diventare motivo per differenziare tra donne di serie A e donne di serie B cioè una più più religiosa l'altra meno meno fedele più fedele assolutamente secondo lei come stanno cambiando le cose per le donne musulmane perché sappiamo che in alcuni paesi sembrano peggiorare mentre in altri si stanno battendo per conquistare appunto un po' più diritti e maggiore parità rispetto all'uomo c'è un movimento tra virgolette femminista islamico allora assolutamente sì nel senso che qua è totalmente sconosciuto o sono sconosciuti i movimenti di liberazione delle donne delle donne nei paesi la maggioranza musulmana sono movimenti molto antichi cioè risalgono i più principali risalgono a fine dell'ottocento a fine del 1800 quindi non è roba di oggi ma è roba abbastanza che ormai è consolidata e ha un suo percorso storico importante sono movimenti principalmente di due tipi uno è di stampo religioso chiamiamolo così ovvero che ispirati dal messaggio originale dell'islam si vuole ripristinare appunto il messaggio originale che all'inizio vi raccontavo di libertà di emancipazione autodeterminazione delle donne però restando in un ambito religioso quindi tutto quello che l'islam ha riconosciuto alle donne viene rivalorizzato e si cerca di togliere tutti quegli elementi culturali che si sono accumulati nel tempo per pulire la religione da queste tradizioni negative che si sono accumulate nel tempo queste si fanno chiamare alcune si fanno chiamare anche femministe femministe musulmane altre no preferiscono non avere l'etichetta di femministe perché il femminismo è un movimento occidentale che ha avuto radici molto diverse anche obiettivi no gli obiettivi sono gli stessi quelli dell'autodeterminazione e emancipazione delle donne però fuori dal contesto religioso per esempio anzi in contrasto anche spesso al contesto religioso mentre di là si cerca di restare nel respiro religioso sempre nei paesi di maggioranza musulmana ci sono anche movimenti noi quelli chiameremmo laici quindi al di fuori del confino del quadro religioso e che si rifanno e si ispirano invece ai movimenti più prettamente occidentali convivono comunicano dialogano sono diversi come sono anche i movimenti femministi qui non sono tutti uguali sono diversi anche a volte con prospettive orizzonti diversi con modalità di approccio diversa anche in conflitto tra di loro a volte e il problema che c'è poca comunicazione tra questa parte del mondo e quella parte del mondo tra i movimenti femminili invece sarebbe molto importante che si comunicasse ci fosse alleanza perché ci si batte per lo stesso obiettivo c'è la libertà delle donne di auto esprimersi di autodeterminarsi emanciparsi disporre di sé e scegliere scegliere quello che si vuole fare io mi sono imbattuta spesso e confrontata e scontrata con alcune femministe qui perché ritenevano che io fossi condizionata da culture arabe quindi portassi il velo non consapevole della mia vera libertà perché perché non riconoscere a me la mia autodeterminazione anche spirituale e religiosa a me piace così mi piace nascondere i miei capelli mi piace indossare il velo mi piace voglio e scelgo di non portare i pantaloncini e così via posso essere rispettata per questa mia scelta un vero femminismo un vero momento femminile dovrebbe rispettare la scelta delle donne che sia di portare la minigonna o di portare il velo o una gonna lunga o un pantalone lungo questa è la grande sfida che qui ancora non si capisce appieno e non si rispetta pienamente ma un po' anche perché c'è dall'altra parte questa ombra di chi invece l'Islam lo vive nella maniera più sbagliata possibile quindi si guarda i talebani si guarda l'Arabia Saudita eccetera eccetera e si vuole contrastare loro però colpendo tutte le donne incondizionatamente anche chi invece è libera contrasta e si batte e lotta contro invece un Islam più radicale fanatico e estremista quindi bisogna intanto cominciare a capire che i musulmani non sono tutti uguali che ci sono musulmani che diciamo riconoscono tutti quelli che sono i diritti fondamentali i diritti umani eccetera li vedono cioè li vedono li vedono anche li riconoscono nella propria religione e chi invece purtroppo ha un approccio radicale fanatico e non è affino a noi e quindi c'è una battaglia anche tra i musulmani stessi ci sono dibattiti discussioni ma anche nei paesi a maggioranza musulmana in tv per chi la sa guardare e riesce a capirla ci sono dibattiti anche feroci tu interpreti così tu non capisci c'è un po' la tv trasciosa anche lì però ci sono dei movimenti importantissimi che qua sono totalmente sconosciuti io faccio parte seguo alcuni movimenti femministi giordani egiziani siriani eccetera e sono di grandissima ispirazione vorrei tanto riuscire a far incontrare le due parti qua e là e camminare verso lo stesso orizzonte quale consiglio si sente di dare a queste donne ragazze di fede islamica che vivono appunto qui in Italia ma guarda il consiglio che io do sempre a tutti in generale a prescindere musulmani o musulmani fatevi delle domande se qualcosa non vi torna fatevi delle domande e cercate delle risposte quello che vi viene insegnato da chiunque non è la verità assoluta bisogna continuare a cercare e cercare ciò che si fa sentire meglio con se stessi e che abbia coerenza nel modo di vivere e di approcciare poi la vita a 360 gradi io alle donne musulmane che vivono in Italia in particolar modo do sempre tutta mia disponibilità per fare questi percorsi di ricerca di approfondimento di esplorazione insieme infatti ho diversi gruppi con cui lavoriamo su questo e poi lo condividiamo il più possibile con tante altre e la cosa più importante è non tacere di fronte a qualcosa che si ritiene sbagliato quando si vede una situazione che riconosciamo non essere giusta per esempio una cugina che viene sposata al cugino per forza eccetera di non tacere di dire la propria di ribellarsi a un matrimonio in un posto combinato ci sono tutti i canali per resistere a queste tradizioni e culture che vanno cancellate da faccia della terra è un'ultima domanda invece questa è al contrario il consiglio che potrebbe dare invece ai ragazzi giovani non musulmani quindi ragazzi che vivono qui in Italia e che hanno a che fare a livello sociale nella loro vita di ogni giorno appunto con i ragazzi musulmani quindi qual è secondo lei potrebbe essere l'approccio giusto perché magari non tutti sono sensibili oppure magari non tutti sanno l'approccio giusto se lei riesce a darci un consiglio allora diciamo che secondo me le tre le tre cose principali da cui partire da cui partire sono la curiosità l'ascolto il rispetto la curiosità ti spinge ad avvicinarti agli altri a chiedere a conoscere ad approfondire l'ascolto ti mette appunto in ascolto e quindi anche in una posizione di rispetto di comprensione di ricerca di comprensione e di tutte queste cose avvicinano le persone tra di loro il problema più grande è che noi che spesso le persone si guardano con diffidenza supponendo delle cose avendo dei pregiudizi degli stereotipi l'uno verso l'altro poi è sempre reciproca la cosa e invece dobbiamo riuscire a rompere queste barriere darci fiducia e conoscerci perché poi alla fine nascono sempre grandi amicizie grandi rapporti e alla fine si scopre che oh siamo tutti uguali facciamo le stesse cose ci piacciono le stesse cose facciamo le stesse battaglie chi da una parte o l'altra ma si fanno le stesse battaglie e poi cominciare a vederci come un noi condiviso non siamo più noi voi loro e quegli altri siamo tutti nella stessa grande barca e tutti dobbiamo impegnarci perché le cose vadano bene perché le cose funzionino per il bene di tutti stiamo vedendo cosa sta succedendo qui in Europa se non riusciamo a vederci come un unico fronte che vuole che le persone stiano bene abbiano la pace abbiano il rispetto abbiano la dignità allora sarà sempre guerra per tutti prima o poi arriva per tutti in questo momento sono proprio d'accordo con lei ne so qualcosa a questo punto direi che possiamo Sumaya ti ringrazio molto è stato davvero utile anche per me personalmente penso lo sia stato per tutti adesso passo la parola a Roberto che è riapparso grazie 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 abbiamo ancora tre minuti a disposizione io volevo intanto ringraziare tutti e salutare lasciando però la parola finale a Sumaya perché abbiamo delle domande che non siamo riusciti a porre in effetti un'ora su un tema così grande e poi esposto così bene come ha fatto Sumaya veramente ci vorrebbe molto più tempo per approfondire però ci sono arrivate alcune domande io ne pongo una sola con cui do due minuti a Sumaya per rispondere perché poi la trasmissione si chiude allora perché si fa il Ramadan allora il Ramadan è un anche qui non è inventato dall'Islam il digiuno esiste per tante tradizioni religiose in un modo o in un altro intanto il Ramadan è il nome del mese attenzione è come dire gennaio febbraio nel mese di Ramadan è stato prescritto il digiuno nel Corano è stato proprio prescritto il digiuno nel mese di Ramadan questo digiuno è un atto di fede e di devozione anche questo è un adempiere ad una volontà di Dio che ci mette alla prova e quindi digiuniamo dall'alba al tramunto tutti i giorni per tutto il mese di Ramadan che di solito è 29 o 30 giorni e questo diventa per noi un grande una grande occasione di riflessione spirituale infatti le preghiere si intensificano di sera in particolar modo e diventa anche un momento in cui noi sfidiamo noi stessi perché digiunare è difficile si digiuna dal cibo dall'acqua e anche dalla pratica sessuale quindi tutti i bisogni primari in qualche modo sfidando sfidando noi stessi noi riconosciamo la forza di Dio in qualche modo che ci dà forza e che ci riconosce questa nostra capacità di trattenerci da qualcosa che per noi è importante e poi diventa un mese di riflessione un mese di riflessione verso chi ha meno di noi a chi quindi a chi non ha cibo chi non ha acqua ma anche un momento di riflessione su quanto noi sprechiamo cibo su quanto sprechiamo acqua e non ce ne rendiamo conto quando tu apri il frigorifero lo vedi pieno e dici ah cavolo mi basterebbe solo un pezzettino di quel panino o di quella fettina di prosciutto e sarai felice invece non la tocco non ce l'ho a disposizione ecco tante persone nel mondo non hanno a disposizione queste cose quindi in generale diventa veramente un profondo momento di riflessione è un mese che si cerca di vivere in collettività perché si vuole rafforzare quelle che sono le relazioni tra le persone e noi qui in un paese non musulmano cerchiamo anche di viverlo con tutta la comunità locale e quindi si condividono degli iftar con i vicini di casa si fanno ormai gli iftar street sono diventati famosi in tutta Italia in cui le comunità musulmane chiedono ai comuni di chiudere una strada per esempio si fanno grandi tavolate e si chiama tutto il vicinato a mangiare insieme perché diventa un momento di condivisione riflessione comune certo il covid ha un po' sospeso tutto questo però adesso piano piano si ricomincerà bene grazie grazie Vitalia grazie Sumaya un saluto a tutti i nostri spettatori e magari ci vediamo l'anno prossimo con qualche altro argomento con qualche altro approfondimento sempre su questo tema molto interessante che è quello dell'Islam e le donne arrivederci e buona giornata arrivederci grazie grazie ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti